Chi è Chiara Francini, Sanremo 2023 Quarta serata Chiara Francini è una delle co-conduttrici di Amadeusa al Festival di Sanremo 2023. Chiara Francini, età, peso, altezza, provenienza età. 43 anni provenienza, Firenze altezza. 166 centimetri peso. 60 kg segno zodiacale, sagittario data di nascita. 20 dicembre 1979 professione, attrice e conduttrice tatuaggi, nessuno profilo Instagram, et Chiara Francini Chiara Francini, carriera laureata in lettere. Chiara Francini ha iniziato a muovere i primi passi come attrice in teatro. E approdata in televisione grazie a Marco Giusti. Che le ha offerto due ruoli fissi nei suoi programmi Bla 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 e Stracuta poi recitato in tv e al cinema. Ha lavorato con Leonardo Pieraccioni, Fausto Brizzi, Riccardo Milani. Nel suo lungo curriculum. Solo per citare alcuni lavori, gente di mare, maschi contro femmine, tutti pazzi per amore. Non dirlo al mio capo. Ha condotto colorado ed è stata a Valletta di Pippo Bauda Domeniken. Chiara Francini, vita privata a Chiara Francini è fidanzata da 17 anni con un ragazzo svedese di nome Fredrik. Che non fa parte del mondo dello spettacolo. La coppia non è sposata e non ha figli. La Francini e il compagno si sono conosciuti quando entrambi erano impiegati nello stesso ufficio di comunicazione. Ma solo dopo la fine del contratto di Chiara, Fredrik ha avuto il coraggio di chiederle di uscire. Ho un master in product management. Vengo da una famiglia normale, i miei hanno fatto sacrifici per farmi studiare e io ho seguito il percorso, mi sono laureata in lettere. Contemporaneamente mi sono diplomata all'Accademia del Teatro della Limonaia, poi il master. Ho sempre lavorato, non solo come attrice ha raccontato la co-conduttrice di Sanremo 2023. Virgola.